Il 7 aprile del 44 la sera iniziava la Pasqua ebraica, quando la mattina, come facevamo tutte le mattine, salimmo nell'appartamento con i miei fratelli e il papà disse questa sera è Pesach, Pasqua. L'avevamo sempre solennizzata facendo il Seder, cioè la cena pasquale, recitando la Gadach, il rituale della Pasqua. E il papà disse perché non siamo tutti insieme? Beh, noi accettiamo con gioia. Dopo molto tempo ci saremmo riuniti, saremmo stati tutti quanti insieme. Non è successo niente, ormai erano passati 7 mesi dall'occupazione tedesca, non era successo niente perché proprio stasera. Invece quando eravamo ancora, non avevamo iniziato, avevamo iniziato il Seder, ma non avevamo ancora cominciato a mangiare, stavamo recitando le preghiere e bussarono alla porta, andò ad aprire mia sorella, mia sorella era più grande di noi figli, rientrò nella sala da pranzo, era sconvolta, non riusciva a parlare, non riusciva a respirare addirittura. Dietro di lei due SS armati fino ai denti e un altro che si era fermato sulla porta di casa con un mitra spianato, avevano un mitra e bomba a mano. Parlarono in tedesco, ma nessuno li capiva, poi uno parlava l'italiano perfettamente, dall'altro aveva un foglietto, un foglio di carta e lo consegnò a papà, c'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori, portate con voi qualche indumento e tutto quello che avete di valore perché vi potrà essere utile. Mia sorella cercò di intervenire per nonno, nonno aveva 84 anni, era nato il 2 settembre 1860 e dice c'è il nonno, è rimasto vedo da pochi giorni, ha 84 anni, a noi ci porterebbe da lavorare, ma lui certamente non potrà farlo, lasciatelo. Invece la risposta fu addirittura rabbiosa indicando la porta, Raus fuori, eravamo all'ottavo piano, ricordo che i miei fratelli presero sotto le ascelle nonno per farlo scendere velocemente, arrivavamo al portone e c'era una ambulanza, ai lati dell'ambulanza c'erano due ragazzi italiani, due fascisti, erano quelli che ci avevano denunciato, ci avevano denunciato per quel compenso di 5.000 lire ma non gli bastava perché uno si rivolsa a papà e gli dice 16 lo è nascosto gioielli, denaro che noi lo recuperiamo e domani sarete liberi perché sappiamo come corrompere i tedeschi, non gli bastavano le 40.000 lire e noi eravamo in 8 che era una cifra enorme, volevo di più, a parte che noi non avevamo assolutamente niente di oggetti di valore, non avevamo assolutamente niente, saremmo su quest'ambulanza e mia sorella ci disse subito che quella mattina quando era uscita dovevamo pure mangiare, quindi dovevamo fare gli acquisti di quello che si trovava per la cena e era stata seguita da un ragazzo, era uno dei due che stava là, questo ragazzo gli aveva rivolto una parola, dei complimenti, aveva tentato un approccio, mia sorella non ci aveva fatto caso più di tanto, poi ci disse che l'aveva invitato a andarsene, per piacere dice vattene, infatti non l'aveva più vista, evidentemente però l'aveva seguita proprio per sapere dove eravamo nascosti, era quello che ci aveva denunciato per mandarci a morire e io sono sicuro che lo sapeva, cioè lo sapeva che saremmo andati a morire, sennò avrebbe dovuto temere che un giorno qualcuno di noi poteva ritornando, avrebbe dovuto riconoscerlo, quindi questo timore non l'ho avuto, era totalmente convinto che i nazifascisti avrebbero vinto la guerra, ma come stavano andando le cose nella guerra su tutti i fronti era un po' difficile poter pensare a una cosa di questa, una cosa del genere ma io penso che sapesse che non saremmo mai tornati. Dopo pochi minuti su questa ambulanza arrivamo nel carcere di Regina Celi, entrare in un carcere sconvolgente, fumo messi faccia al muro davanti all'ufficio matricola, l'obbligo di non parlare, guardati a vista era una sentinella, mamma e mia sorella furono mandate al reparto femminile del carcere e noi eravamo nel terzo braccio, alle nostre spalle c'era una porta dove a un certo punto ci chiamavano e dovevamo entrare là dentro, dovevano registrare l'ingresso del campo e riempire la scheda, la scheda aveva un numero, nome, cognome, indirizzo, studi, poi tutti i connotati, i colori degli occhi, i colori dei capelli, poi uno di questi erano due guardie carcerarie che erano là dentro, uno scriveva e l'altro assisteva, quello che assisteva mi prese la mano sinistra, mi prese l'indice della mano sinistra, me lo accompagnò su un tampone di chiostro e poi mi accompagnò la mano sotto la scheda e mi fece imprimere l'impronta digitale e fu una cosa per me sconvolgente, io vi ricordo che uscì da quella porta piangendo, il papà corsa, la sentinella si era allontanata in quel momento e il papà ci rivolse alcune parole, aveva capito tutto, il papà aveva capito che non ci sarebbe stato scampo, mi ricordo disse, mi raccomando ragazzi, possono accadere cose terribili, siate uomini, non perdete mai la dignità, aveva capito che il rischio maggiore fosse quello, la perdita della dignità, forse non temeva più della perdita della vita, è difficile però mantenere la dignità quando si affama, come si fa? Quando si implora magari soltanto con lo sguardo il carnefice che ti versa la brodaglia con la speranza che affondi un pochino di più il mestolo per ricavarne qualcosa di più solito, non c'è dignità, certo poi qualcuno che la manteneva c'era, ogni tanto qualcuno si ribellava, mandava incontro alla tortura e alla morte, io avevo 15 anni e non volevo morire.